Siamo in questa piazza piena di bambini che festeggiano Halloween, c'era un ragazzino che ha detto alla sua amica Eh eh tu non vieni, lei la guarda, avrà avuto otto anni, gli ha detto, la guarda e ha detto bro che cazzo vuoi Bro che cazzo vuoi, invece ecco qua Edoardo, ancora piccolino per queste cose, lui spaesato qui tra i grandi celli in questa piazza Scusate l'abbassamento di voce, dove si festeggerà Halloween tra pochino, guardalo, non è neanche vestito il nostro amore Pensate il caso Chiara di trovarsi qua ad Amsterdam, allora come stai? Perché non mi? Chiara, una parola, siamo amici comunque ci siamo visti Chiara Ferri, la Fer, perché non mi parli? Guys sono andata a vedere la casa nuova ed è stupenda, adesso è quasi pronta, quasi finita, mancano qualche settimana Non vi incazzate se stiamo facendo Sono l'ora di farvela vedere perché avete visto forse il 10% neanche della casa Ci vediamo, alla prossima, ciao!